E adesso andiamo a parlare di sport, aprendo la pagina sportiva con il calcio di Serie C in vista della trasferta dei Biancazzurri che saranno impegnati appunto domani a Siena. Oggi c'è stata la conferenza stampa del tecnico Biancazzurro Auteri e allora in diretta dal Delfino Center a Città Sant'Angelo abbiamo proprio il nostro Enrico Giancarli che ci riferisce tutto. Buongiorno Enrico. Sì, buon pomeriggio Anna, bentrovati a tutti, un saluto agli amici all'ascolto al TG8, siamo al Delfino Center, terminata da un po' la conferenza stampa del tecnico Auteri in vista del match di domani. Fischio d'inizio alle 17.30 a Siena, partita importantissima ma sarà emergenza in difesa perché Drudi e Ingrosso non sono al 100%, sono regolarmente convocati ma il tecnico Auteri valuterà solo prima del fischio d'inizio. Se sono in grado o meno di scendere in campo con la squalifica di Ianes questo è un bel problema. Non convocati invece per scelta tecnica Valdifiori e Galano, non ci sarà come detto lo squalificato Ianes, non ci sarà Chiarella che sta recuperando dopo l'intervento alla spalla, mentre sostanzialmente stanno bene sia Ferrari che De Marchi. Andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico Auteri. Un po' Drudi e un po' Ingrosso, sono quelli che danno qualche problematica allo stato attuale, gli altri complessivamente stanno bene. E' chiaro che ad esempio c'è Ferrari, piccoli fastidi, lui ha fatto due partite in quattro giorni, li ha fatti anche ad alto livello, correndo anche tanto. Ho De Marchi che ha chiesto il cambio, però sono tutte situazioni che abbiamo recuperato. Le uniche due preoccupazioni sono legate a quei due nominativi. Tanno qualche piccolo pensiero a oggi, quindi vedremo domani. Le soluzioni in ogni caso le dobbiamo trovare e dobbiamo trovare le soluzioni proficue. Se ce l'hai un giocatore bene, se non ce l'hai, non è che ci dobbiamo fasciare la testa e neanche cercare scusanti, perché non c'era quella assenza. Non mi sono mai lamentato di questo. Vedremo, vedremo, valuteremo fino all'ultimo momento. Quindi sono in dubbio, diciamo così? Questi sono quelli che sono fuori contesto, perché non sono convocati, sono in Lanes, vabbè, a parte Chiarelle, eccetera, e poi non ci sono neanche Valdifiori e Galano. Ah, non convocati Valdifiori e Galano? Per scelta sua? Per scelta mia, non stanno bene. Non stanno male fisica, non hanno avuto infortuni? Non stanno bene, infortuni no, ma non stanno bene, che ne so, c'è delle problematiche di salute. C'è, ecco, mal di testa, cervicale, mal di schiena, anche con fatti... Quello che hai detto prima, fatto mentale da parte di tu, non di tutti, quello che hai detto prima, sull'unità del gruppo. No, non è questo, io non... qua non c'è nessuno che rema contro. Sto dicendo, nel caso di loro due, ci hanno delle problematiche che non sono né muscolari né articolari, sono delle problematiche, diciamo, fisiche, adesso, per un fatto di privacy, non è che possiamo andare nel dettaglio. Non stanno benissimo, ecco. Ok, comunque, Drudi, rosso convocati. Sì, sì, quelli sì. Poi vedremo domani. Guardi, per precauzione abbiamo convocato Sacco e, visto che non c'è il Lanes, c'è Veroli. E quindi vedremo domani, valuteremo, ma non sono preoccupato, ve lo giuro, vedremo. Perché comunque Veroli è un giocatore che forse voi non conoscete bene, quindi... Ma Veroli può fare anche la difesa a due o solo un centro-sinistra? Veroli può fare tutto. Anche la difesa a due? Veroli a quattro può fare il terzino a sinistra, può fare il centrale a sinistra, se ne hai due soli di centrale sono due mancini. Ho capito, uno dei due andrà a giocare a destra, ma le domando io un piccolo dettaglio. Sa perché? Perché un sinistro che gioca a destra, ogni volta che l'azione gli viene dalla parte opposta, si ritrova a chiudere più facilmente col sinistro. È solo nello sviluppo, nella proposta di gioco che... Chiedevo se magari qualche centrocampista era adattabile nel caso divergente. No, questo no. Non c'è qui, non c'è nessun centrocampista che può andare a fare l'oro di difensore centrale. Non mi permetterei mai. È una squadra di spessore, è una squadra che ha cominciato non benissimo, come noi. Noi, soprattutto nell'ultimo periodo, perché avevamo cominciato anche diversamente, ma abbiamo il tempo, le condizioni e le possibilità di recuperare. Quindi loro sono una squadra consistente, importante, perché hanno giocatori importanti. Non sono in un bel momento, vabbè, ci andiamo a giocare la partita, vi ripeto. Posso dire poco, se non quello che ho detto del Siera. Io non sono preoccupato, deluso sì, incazzato sì, per le cose che facciamo, amareggiato sì, ma non sono preoccupato perché non abbiamo grandi problemi da risolvere, per cui ci vuole tanto tempo. Queste dunque, Anna, le parole del tecnico Biancazzurro. Si deciderà prima del fischio d'inizio sull'eventuale utilizzo di Drudi e di Ingrosso, ma in rampa di lancio il giovanissimo Veroli. Se non ci sono domande, ti restituisco la linea. A te.